Si giocherà regolarmente allo stadio Rodi di Mosciano la partita di ritorno del secondo e ultimo turno delle fasi nazionali dei play-off di eccellenza tra i giallorossi di Gennaro Grillo e Lanzio Lavigno. Scongiurato così il cambio di campo, situazione che si era prefigurata quando mercoledì scorso la società del presidente Beccaceci aveva ricevuto una comunicazione dall'osservatorio di Roma per le manifestazioni sportive, secondo la quale lo stadio di Mosciano non era ritenuto idoneo ad ospitare una gara di tale rilievo per motivi di sicurezza. La dirigenza si è attivata e con l'aiuto di istituzioni e forze dell'ordine l'allarme è rientrato. In particolare il sindaco di Mosciano, Orazio Di Marcello, ha emesso un'ordinanza dove sono state specificate capienza dello stadio, divisione dei settori e relativa assegnazione ai tifosi. Ora l'attenzione è tutta sul verdetto che il campo esprimerà. Il Mosciano è ad un passo dal ritorno in Serie D, un sogno alimentato dalla vittoria dei play-off regionali, l'impresa di Pistoia e il gol di Stacchiotti che nella partita di andata ha riaperto i giochi in zona Cesarini. Si riparte dal 2-1 per i laziali, al Mosciano basterebbe l'1-0, con il 2-1 si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La squadra a questo punto della stagione è stanca ma comunque pronta all'ultima battaglia, problemi in difesa per Gennaro Grillo, sicuro assente De Benedictis, squalificato, probabile forfè anche per Pinto che ad Anzio ha rimediato uno stiramento in avvio di gara. Molto difficile il recupero. Per il resto il tecnico si affiderà alla coppia del gol Rossi Fusco e all'estro ed esperienza di Clementoni. L'Anzio Lavinio si è dimostrata squadra solida, coriacea, con buone individualità, quali l'esterno Gamboni e la seconda punta Giuffrida, oltre al bomber Antonelli. Fischio di inizio alle ore 16, dirigerà l'incontro Marco Castello della sezione di Potenza.